E all'interno delle celebrazioni dedicate ai Santi Medici, come Ciposma e Daniano, ma che in qualche modo ha una sua autonomia, perché qui, in questo auditorio, qui, purtroppo, parlare di medicina, parlare di arte, significa in qualche modo ricrociare una delle missioni che questo istituto ha, quello cioè di considerare l'armalato come persona, l'armalato non è un paziente, l'armalato è una persona che va considerata di età, in tutte le sue dimensioni. E l'attenzione al bello è quello che fa persona, e quello cioè che in qualche modo ti fa capire che sei parte di un disegno di amore. Allora, non è strano parlare oggi di questo. La Chiesa, diceva Papa Francesco, è un ospedale da cambio, il che già significa che c'è un apprezzamento dell'opera che il medico fa nei confronti di chi ha bisogno. Da sempre, da sempre la Santa Chiesa ha guardato all'ammalato come ha avuto i sofferenzi di ordi ospedalieri, tutto quello che è stato fatto dalla Chiesa in tempi diversi esattamente per alleviare i sofferenzi del prossimo, per alleviare i sofferenzi del prossimo e per farli maniare il prossimo pezzo. credo che questo sia il messaggio che oggi si volerà da questo istituto e dalle ammirazioni che verranno ottenute. Io devo leggere un messaggio a me mandato dal mio amico Paolo Rubani, che è il presidente onorario del campus neomedico, ma soprattutto il presidente della fondazione campus neomedico, della quale io peraltro mi faccio parte. Caro Alberto, dietro dall'estero ho potuto esaminare il programma del convegno organizzato a Rio Nero in tutto l'occasione della festività dei Santi Torna e Daniele. Anche se ritengo molto attraente il titolo del tavolo di fondo, sono purtroppo impossibilitato a intervenire per un contemporaneo importante impegno istituzionale nel Consiglio Generale di Conti Industri di tutta ciò parte, comunicato di solo recentemente. ho tentato di coinvolgere il nostro istituto di filosofia dell'agire scientifico e tecnologico a partecipare al mio amico Paolo Rotonda, cosa che avrebbero fatto con molto piacere, ma purtroppo non è stato possibile organizzarsi per una mancanza di tempo. Non mi resta che augurare agli organizzatori successi di tutto l'evento, rimanendo a disposizione per l'eventuale prossima occasione di un caro e solito Paolo Rotonda. Io direi che possiamo in questo momento entrare immediatamente nell'argomento ascoltando la relazione di Monsignor e l'ambito del popolo, sarei siamo quindi abituato a trattare con i giovani, a trattare con questo mondo che sembra essere magmatico, ma che ha all'interno delle forti tensioni, delle forti aspirazioni, tante domande che poi spesso non ci danno rispondere. Non insomma, sarete opportuno in questa terra, soprattutto Dario, questa è una terra nella quale, a ricongenza, i giovani se ne hanno. Se ne hanno per tutti i pezzi, i giovani, i giovani, i giovani, i giovani, le menti migliori vanno fuori legione, spesso all'estero, e qui si resta come una sorta di riserva indiana, qualche capito bianco, qualcuno che mette una coperta attorno al secolo di venti capaci, in attesa della necessità di che cosa noi vorremmo che nascesse come un vento, come un vento che facesse, come dire, incendiare le braccia e che questi giovani potessero essere il nostro vento, così che questa terra possa ritrovare un suo, questa è la regione dal vento, quindi voi, siamo come demografia, che si capisce, matrimoni non si c'è, poi il lavoro spesso di quanto c'è precario, che viene dato come una sorta di concessione, tutto questo non è per le persone, non è per le persone, non è per le persone. Allora, in un quadro così, avendo di fronte una regione come questa, forse parlare della medicina e della storia della medicina, della forza di chiesa e di medicina, ha anche un senso, perché serve a ricordarci con le persone, abbiano sempre, comunque, un'ordine da prevenire. Grazie mille e saluto tutti. Adesso vi rivolgo un momentino ai ragazzi, perché io sono un salesiano, figlio di Don Bosco, e quindi la mia patria giovanile è lì. Cari ragazzi, il tema che tratterò è molto tecnico, è difficile, presuppone in per sé una serie di conoscenze che in quel momento non potete avere. Allora, ho pensato di scrivervi tutto il testo e di darvelo immediatamente, in modo che possiate seguire meglio. Andiamo in mano il testo. Ecco, col testo in mano potete, no? Sì, avete... Ecco, allora, lo distribuiamo, così, agliate questo testo tra le mani, o non tenete, lo troverete un po' lungo, ma io lo scorcerò abbondantemente. L'ho scritto su una pagina e sull'altra, in modo che non possiate utilizzare questi fogli per altri scopri. Va bene, così risparmiamo. Perché il tema di cui vi parlo per un quarto d'ora e venti minuti è un tema veramente poco trattato in giro ed è l'origine della medicina cristiana, cioè come i primi cristiani curavano e assistevano i malattimi. E già, ragazzi, vi do la notizia più interessante e di cui dobbiamo andare giustamente, o voglio così, l'ospedale, così come lo conosciamo noi oggi, ecco, l'ospedale è nato in casa chiesa. È proprio la chiesa che ha questo grandissimo merito di aver inventato le strutture ospedaliere per tutti, per la cura di tutti, non qualche clinichetta pericchi, ecco, ma un ospedale per tutti. e con una particolare attenzione ai poveri. Questa è la specificità della iniziativa cristiana nella cura dei malattimi. Tra paretesi, ma non c'entra, devo dirvi che un altro grandissimo merito della chiesa è quello di aver fondato le università. le università des studiologo, quelle che frequenterete tra qualche anno, ecco, sono nate anche loro in casa chiesa. Cioè, dobbiamo essere consapevoli dei meriti enormi che ha avuto la chiesa per la promozione dell'umanismo internazionale. A volte, senza che dei tempi che corrono, queste cose vengono messe tra parenti, oppure non vengono dette per umiltà che lo usa. No, 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 non so che li fa. La chiesa ha anche le sue colle, perché la chiesa è fatta di uomini e non di anche le sue bolle, però bisogna riconoscere che nei secoli e nei millenni ha svolto un'opera di umanizzazione veramente notevole. Allora parto da qui leggendovi il mio testo che avete tramato. Un primo punto, medicina razionale, fisica, laica, un po' come la nostra medicina. Medicina religiosa e soprannaturale è un'altra cosa e addirittura medicina magica nei primi secoli cristiani. La frede biblica, quella dell'Antico e dell'Antico Testamento, in un Dio unico, personale, creatore e soprattutto padre, che dispensa ai suoi figli dolori e gioie, malattie e guaglioni in modo misterioso. Perché Dio? ma sempre provvidenziale, anche se non sempre riusciamo a cogliere questo filo della provvidenza divina, creò nel cristianismo primitivo le condizioni favorevoli per una equilibrata convivenza di due sistemi di guarigione complementari e tra loro concorrenti. Da un lato una sincera comienza della medicina razionale, fisica, laica, quando questa accetta non di sostituirsi a Dio creatore pretendendo di fare lei il miracolo, ma quando accetta di considerarsi ministra di Dio. Dall'altra parte, il progressivo instaurarsi e rafforzarsi di un sistema di medicina religiosa e soprenaturale sempre più gestito dalla Chiesa mediante la preghiera, l'esorcismo, i miracoli e in genere mediante la fede in continuità con le guarigioni bibliche in cui Yahweh e Cristo agiscono direttamente come veri e unici medici. Ecco, solo le sopravvivono tutt'oggi, ancora oggi così. Qui, per esempio, in questa struttura si cura secondo la medicina nazionale fisica laica, ma non è esclusa la cappella, la Chiesa, nella quale si prega con fede e schiede la guarigione, se possibile anche il diacolo. E di diacolo il santi Cosma e Dall'Anno erano specialisti. ma sono come dire due linee tra loro diversificate. Vediamo così che nei primi secoli cristiani la tendenza preferenziale concessa alla medicina religiosa può generare delle tensioni in varia natura, ma ma non gravi irreparabili fra tutte. Salto qualche capoverso e sembra pagina nuve di tolgo lo spazio più grande dico in generale le ricerche sulla medicina antica dei partiti della chiesa attestano un apprezzamento molto positivo della medicina razionale laica da parte dei cristiani però come già ho detto era inevitabile che ci cosero anche delle tensioni e persino dei rifiuti vado a pagina tre ultimo parato ma indefendita il rapporto positivo tra cristianesimo e medicina sembra tenere in molti casi le ammonizioni le volte ai medici e ai pazienti perché si ricordino che solo Dio guarisce si accompagna a chiare affermazioni sull'importanza e sul valore dell'arte medica si può anzi concludere questa prima parte delle nostre riflessioni citando un'iscrizione in versi dedicata al sacerdote e medico Anarbyros cosa vuol dire termine greco che significa che non prendeva danaro come del resto il santo cosma e da bianco chiamati medici analgivi beh oggi sembra essere un po' impossibile o no medici che non prendono danaro dicono che San Paolo abbia scritto una lettera incompiuta ai dentisti e questa lettera ha una sola parola carissimi poi si è fermato i dentisti sono carissimi allora questo medico Anarbyros che non prendeva soldi si chiama Dionisio vissuto intorno al quattro cene in questa iscrizione si attesta la conciliazione tra le due medicine o le due professioni quella della medicina laica e quella della medicina religiosa e dice così l'arte medica deve generare la fede e il decoro della fede esalta l'arte medica ecco vedete l'equilibrio prescritto nel paragrafo successivo che comincia a pagina quattro vi parlo dell'assistenza e della cura dei malati nei primi secoli cristiani prima in oriente e poi in occidente e anche qui mi limito a poche cose andiamo subito a pagina serie perché qui alla quinta ricca vi parlo delle bisogni più importanti dell'antichità in oriente per la cura dei malati è il precedente dell'ospedale come lo conosciamo fondato da un grande santo san basil vescovo e monaco ecco lui fondò accanto a cesarea che era la sua diocesi quindi in periferia rispetto alla città di cesarea una sorta di cittavillaggio che venne chiamata in onore del vescovo basilide lui si chiamava basilide la basilide è il primo complesso ospedaliero ben conosciuto siamo nel quarto secolo basilio vescovo di cesarea la fece costruire nel 370 fuori dalle mura urbane di cesarea la basilide che è descritta dal suo stesso fondatore in una lettera indirizzata al governatore della città comprendeva la chiesa edifici per il vescovo per il clero per i rappresentanti del potere civile un albergo per i viaggiatori uno spizio per i poveri un ospedale un'officina scuole viaggi e un po' di tutto il nome basiliero è attestato dagli storici dell'epoca e basilio dovette ispirarsi ad altre forme ospedaliere meno importanti ma già precedenti a lui le cure personalmente dedicate dal vescovo a grandi infelici suscitano l'ammirazione e la lode dei contemporanei non solo i cattolici ma anche quelli che oggi chiameremo protestanti e pagati del frutto rimangono tutti a bocca aperta di fronte a quest'opera straordinaria di carità e per esempio questo Gregorio Nazianzeno osserva con entusiasmo che l'ospedale può essere contato tra le meraviglie del mondo le sette meraviglie del mondo tanto erano numerosi malati tra cui anche i lebrosi e i poveri accolti e curati questa è proprio la novità ospedale per tutti non solo per i pochi che potevano presentersi un luogo di pura e terrorismo e così amorevole era la devozione e l'efficienza con cui erano serviti una vera e propria città a direzione pedesiastica il cui personale comprendente medici infermieri e assistenti era costituito da monaci e di fronte a un simile fenomeno le morbolazioni e le indigie come sempre erano inevitabili Basilio stesso risponde a queste critiche parlando esplicitamente di calumnie e di sospetti sorti presso gli appassionati del potere civile e difende con forza la propria missione di benedicenza vado all'occidente pagina 7 ecco casa nostra ecco l'occidente arriva un po' più tardi rispetto all'oriente verso la fine del quarto secolo cominciano ad essere menzionati ospedali anche nell'occidente latino cristiano si comincia da Roma e dintorni e dalla Campania ricordiamo innanzitutto il nosocogno ospedale aperto a Roma con i propri mezzi da Fabiola una novitonna romana di Cecola e amica di San Giorgio e sa stessa vi lavorò raccogliendo i poveri dalle pubbliche vie e curandone molti personalmente una figura molto importante per questo è un santo vescovo di Nora Paolino vescovo di Nora offre un'accurata descrizione dell'ospizio ospedale da cui stesso costruito vicino a un santuario il santuario di San Benicio una costruzione così unita al santuario o alla chiesa che dalle finestre dell'ospedale si poteva vedere l'altare della chiesa e il lumino acceso del santismo e i malati erano molto confrontati da questo durante la sua prima venuta nuova intorno a 380 sose uno spizio per i poveri malati durante la sua seconda pertenenza nel 395 fu al punto un secondo piano per la comunità e per i suoi ospiti una tale dimora rendeva possibile la vita insieme agli indigenti con reciproco vantaggio dell'agenzia essi i malati rafforzino con la preghiera le nostre condimenti noi ai piani i corpi dei fratelli indigi con l'abitazione vedete quell'equilibrio che viene curato sempre nella storia della chiesa tra la medicina nazionale e la prospettiva di fede la medicina diciamo così costruita sulla preghiera che richiede che richiede l'abitazione in meditazione conclusione non si può negare che la storia della medicina soprattutto il bollente ma anche il bollente procede in stretta connessione con la storia della carità cristiana in questa storia l'impegno degli antichi padri della chiesa si esercita su due versaggi uno dottrinale l'altro pratico dal punto di vista dottrinale essi orchestravano una vera e propria strategia orientata al sinunzio a destituire di ogni credibilità l'assimilazione di Cristo medico ai vari eroi pagani è Cristo che salva anche mediante la medicina laica non ascletio esculario di quella gente di che vi siete impensati voi questi non esistono è Gesù Cristo che salva naturalmente mediante la medicina laica ben gestita dal punto di vista pratico insistendo in modo speciale sul comandamento generico della carità e sul rapporto inscindibile tra amore di Dio e amore del prossimo e soprattutto del prossimo più bisogno i nostri pazzi promossero strutture pionieristiche di accoglienza di ricovero e di cura dei malati e degli anziani e concludo cari ragazzi sono stato bravo inizialmente allora allora concludo con questo pensiero che vorrei che vi ricordate si snoda così lungo due mille quella storia della carità che dai padri della chiesa scorre fino ad oggi oggi qui in questo ospedale nel quale ricordiamo i santi Cosma e Gagnano in essa in questa storia come si diceva un santo monaco dell'Oriente massimo del confessore in questa storia la carità va considerata senza mai dividerla tra carità verso Dio e carità verso il prossimo perché questa è un'ipocrisia è un'ipocrisia infatti la carità è unica tutta intera è dovuta Dio perché Dio è carità la carità parte da Lui ma unisce gli uomini gli unici altri tutti gli uomini di ogni razza e nazione e cultura l'azione e la perfetta carità verso Dio e la sua evidente dimostrazione rischiedono in una sincera disposizione di volontaria la benevolenza nei confronti del prossimo perché come dice il divino apostolo Giovanni quello che congiocato sul cuore del maestro nell'ultima cena colui che non ha il fratello che vede non può amare un figlio che non vede sostenuto avendo l'inizio al suo centro la valutazione della persona e la cifra direi da sempre accentuata in questi ultimi tempi della missione di questo ospedale che è infostitibile in base di canta e non soltanto in base di canta in vista le relazioni che ha sul territorio dunque il direttore generale oggi assume la veste di relatore vorrei chiederti ecco l'ospedale come un luogo dove si cura la persona è possibile se o invece è difficile superare questo rapporto quasi mercenabile che esiste tra chi presta più e chi del centro qualche volta un rapporto di insonferenismo qualche volta un rapporto di insonferenismo come si viene a montare il cuore delle persone quelle che sono preposte a dare servizio per far vedere nell'altro l'uomo che soffra e le necessità del mondo che soffra grazie 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 al solito Roberto vi riesce a mettermi in grave imbarazzo però devo dire innanzitutto io devo salutare tutti voi devo dire che sono particolarmente felice di questa comunione che per la festa e nella festa si è stabilita tra la parrocchia di Piedra l'Istituto Oncologico di Basilicata e dico l'Istituto Oncologico di Basilicata grazie per quello che hai detto ancora per Beto perché mi sarebbe piaciuto che lo avessi detto anche stasera in una serie di persone lo dirò non è il mio ruolo lo dirò ma sono anche molto onorato per la benevolenza di questa eccellenza con il signor Jacopo anche quest'anno ci ha voluto mostrare la sua partecipazione a questo incontro e consentitemi ancora un saluto attituoso grande di conoscenza grazie a tutti per la condivisione di questo momento di riflessione grazie particolare a mio amico Alberto Stotti per avere assolutamente accettato questo invito moderato questo momento di riflessione e ringrazio anche della sua presenza Massimiliano Ferrabina che è un artista che riesce a sintetizzare la grandezza dell'arte della filosofia un filo e devo dire che peraltro che come dicevo prima c'è un altro valore aggiunto per me calabrezza e quindi è una persona che nella sua arte nella sua vita di artista che è riuscito un po' anche per il suo essere filosofo a scandaliare come pochi l'animo umano le emozioni dell'uomo e a rendere poi presente nella sua anima di sua opera e grazie tornando a quello che mi chiedeva è personalmente in questi anni sono raffinato di un mandato che mi ha anorgoglito onorato che mi ha fatto crescere effettivamente come professionista e soprattutto come uomo io ho avuto più volte occasioni di soffermarmi sul concetto di persona e in particolare sull'uso che di questo termine noi facciamo il linguaggio di tutti i giorni banalizzandolo quando siamo portati in maniera semplicistica ad identificare la persona come individuo torno a ripetere l'ho detto tante volte lo dico anche oggi l'individuo è l'uomo chiuso in se stesso un mero soggetto portatore di diritto individuale la sua difesa è finalizzata tutta la sua esistenza è il frutto di quello che la cultura liberale che per la definizione è una cultura estremamente individualistica ed è l'idea che esclude questo individuo lo esclude completamente dalla dimensione dell'alterità e dalla necessità dell'uomo di aprirsi all'altro di definirsi all'interno di una dimensione sociale e comunitare noi riteniamo invece e noi siamo profondamente convinti che la persona è l'uomo che si realizza nella dimensione della comunità nell'apertura all'altro in buona sostanza in due momenti in due concetti nella comunicazione e nell'altro ma quanto medico ho più forte riflettuto su che ci sono altri due lati della persona che non bisogna respirare e questi due lati sono il lato della fortuna dell'interno e tutto veramente perché persona è anche l'uomo nel pieno possesso delle sue facoltà corpore e non qualsiasi depotenziamento di una sola di queste facoltà è un depotenziamento della persona e vengo a dire per il medico curare nel senso di prendersi cura significa avere un momento di portare significa liberare l'uomo malato da quello stato di passività quella malattia che lo colpisce senza che lui lo voglia in altre parole è una funzione importante la possibilità di restituire con la condizione basilare perché l'uomo eserci la sua dignità e cioè si tratta di libertà e in questo concetto hanno visto che gli esercizi della medicina anche oggi come nel passato come sempre si sostanzia come arte medica diceva Monsignor e l'arte medica in realtà la visione di questo faccio avere l'articipazione ed è la stessa condizione che gli artisti sono riusciti i grandi artisti nei secoli sono riusciti a comunicare nella relazione medico-paziente coinvendo l'intima essenza dell'etica della vita che implica da parte del medico una relazione che è asimmetrica con il passato cioè proprio la gratinità della sua cura senza la quale questa cura si risolve in mera prestazione ecco questi perconcenti la prestazione è un atto che prevede una morcella ma non c'è la partecipazione a quella che non è un medico ragionevole è un medico che è tanto non avere davanti un nero oggetto da riportare in visione ma un'altra con il suo vissuto con la sua storia con le sue emozioni aspetti che richiedono necessariamente un'impostazione dialogante e comprensiva dell'altro ma anche una dimensione amorevole della gente è quello che ho detto sempre ho cercato sempre di trasmettere agli operatori di questo istituto e devo dire che questo compito per me non è stato un compito difficile colgo oggi l'occasione per ringraziarvi pervervi una delle cose che mi fa più piacere quando io come te parlo con la via principale di potenza a passeggiare non è quella di sentire solo siete stati in grado ma è quello io ringrazio veramente tutti i miei di sentirmi dire mi hanno accorto con un progetto mi hanno rispettato con le persone in questo istituto sarà la magia o sarà la malattia sarà quello che è ma devo dire che c'è grande attenzione con le persone dobbiamo lavorare sempre perché questa attenzione non è un'unità in un'unità in un motivo che è questo il rapporto così forte con la parola dei santi medici ma in realtà con la comunità di questa città ci aiuterà a non abbassare male la questione e io di questo ringrazio ringrazio veramente di voi ringrazio 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 vorrei dire ai ragazzi che sono qui e qualche di loro probabilmente sceglierà di fare la medicina che c'è un modo di affrontare la propria avventura professionale è quella di immaginare che sia il luogo la professione dove si riesce ad esplicitare la propria unità e anche per chi ci crede nel momento proprio essere cristiani direi come termine forse forte che la professione è il luogo dove ci crede si raggiunge quotidianamente la santità che è è apertura non per popoli ma è apertura per ogni singolo cristiano che mi ad essere tanti nella professione medica questa è una cosa che si può tentare di vivere più facilmente perché esattamente sei in contatto con l'altro sei l'interfaccia per le necessità dell'altro non dimenticate mai che la professione non è soltanto il modo per mandare l'altro la famiglia per comprarla dal mare per prendere che ne so la bacca la professione è una cosa più semplice la professione è il senso che rendete alla società c'era un tempo che queste cose si dicevano a una persona che non era tornata ora è una stagione perplessa dove le lingue si confondono dove l'individualismo trionfa forse c'è qualcuno che si ritira come diceva voi con volerite nelle stagioni più terribili della storia c'è sempre qualcuno che se ne va verso la riva di un fiume e di un fila perle le perle che in questa terra devono essere infilate sono a bisogna prendere consapevolezza dei propri diritti è un diritto soprattutto a vivere dove si scende di vivere è un diritto ad essere riconosciuti da quelli che siamo per il valore intrinse che abbiamo non massa di manovra ma singole persone la chiesa di Basilicata ha da sempre cercato di dare un messaggio di questa natura recentemente è stato eletto l'esco di fermo un io dico un ragazzo un ragazzo di Matera sacerdote vocazione però quel ragazzo quando venne San Giovanni Paolo II da Potenza nel campo sportivo ebbe il coraggio di fronte al disinebrio lucratissimo che può dire e come il signor Torucci sapeva quello che aveva un progetto dei ragazzi ebbe il coraggio di dire al disinebrio che non si andava bene così non si andava avanti perché perché esattamente nell'agire politico mancava la verità perché le persone venivano viste come masse di manovra perché c'era quel tanto di commuzione che all'epoca si denunciava allora voglio dire luoghi come questo luoghi come il proprio nel loro sviluppo dimostrano che persone non possono a loro volta lasciare dei segni io credo che il senso del proprio c'è stato questo e sarà questo negli anni per chi ci crede anche ricordare che che c'è l'esercizio della carità l'esercizio della carità che è una cosa estremamente raffinata che è una cosa che tendentormente e spiritualmente è estremamente raffinata io sto parlando senza senza celare quello che sono cioè un cristiano tempo per lo meno quello che tento di essere perché in un momento nel quale certe cose sembrano dover essere dette molto sotto voce io preferisco invece dirle a voce alta anche per diciamo così suscitare se possibile il confronto il dibattito anche la contestazione e il cristianesimo siccome è legia della bellezza farsi pensare alla liturgia come è fatto a te la liturgia è la poesia il metodo della poesia per quale succede di declinare il nostro rapporto con Dio insomma la chiesa e l'arte hanno sempre avuto un rapporto in scienica la chiesa e l'arte e anche in qualche modo la medicina cristianamente originata è la chiesa e l'arte il nostro ultimo partecipante a questa tavola rotonda è Massimo intermaggina e ha recentemente pubblicato un libro intitolato le beatitudini al confronto al contrario perché l'arte al servizio della fede dice sempre la verità allora la medicina dice sempre la verità l'arte la fede dice sempre la verità l'arte riesce a accogliere di noi l'arte cercheremo intanto io rinnovo il mio saluto il mio benvenuto a tutti voi e vi ringrazio per la vostra presenza vi confido che lo stato d'animo mio personale in questo momento era abbastanza riferito perché parlare dopo Su'Eccellenza Monsignor Talcolo dopo il Direttore Generale insomma è abbastanza impegnativo ero più rilassato il giorno all'istituzione della tesi in italiano che ero oggi però ecco mi rincuora la presenza dei ragazzi perché io sono un insegnante quindi vedendo le loro facce è come se fossi in classe come se fossi in aula quindi meno male che ci siete ragazzi perché altrimenti sarei stato davvero molto 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 teso allora per cominciare questo nostro tempo insieme a me piacerebbe riprendere un passaggio di Papa Benedetto XVI del dove definisce secondo me e in un certo senso sintetizza come c'è stato anche il proposito del paziente inteso come persona della sua totalità Papa Benedetto XVI dice che l'uomo diventa veramente se stesso quando corpo e anima si ritrovano in intima unità uno separato quando si cura si cura il corpo si cura se l'uomo ambisce ad essere solamente spirito e vuole rifiudare la carne come un'equità soltanto di maresca allora spirito e carne perdono la loro dignità e se dall'altra parte egli rimena lo spirito e quindi considera la materia il corpo come realtà esclusiva perdono la sua grandezza ed è proprio qui che vorrei inserire tra dei libri questo bellissimo passaggio un po' la mia riflessione insieme a voi voi siete stanti no ecco io ho chiesto solo 18 pagine stare sereni non vedo tutto faremo anche utilizzeremo anche le immagini medicina ospedale l'immediatezza l'immagine che immediatamente ci viene in mente è il dolore oggi il dolore è una prova scandalosa nessuno più parli di dolore mi ricordo anche i ragazzi parlare di dolore dire che si sta male è abbastanza scolto perché viviamo nella società tutti effettivamente sani belli splendenti io non so se voi sicuramente siete qui social network conoscete l'instagram potete rispondere ragazzi si riconoscete l'instagram facebook su questi social noi possiamo immagini mettiamo immagini però sempre al massimo delle nostre possibilità siamo sempre da quello che emerge nelle social siamo terminamente in vacanza siamo terminamente in ristoranti siamo sempre belli vestiti in questo punto raramente si riesce a accogliere attraverso il social network che è poi il luogo dove i ragazzi vivono la verità dell'essere umano che è anche la sua fragilità sembra quasi che oggi in una società immunista dove la felicità è da rincorre i costi del dolore della scombra e quindi anche il malato si deve vergognare del suo essere malato sembra quasi che l'uomo abbia perso l'idea di essere fragile e di passaggio l'arte diciamo che la sua storia da quando l'uomo è appasso praticamente è spesso la vetrina dove il dolore viene mediato e si è fatta solente carico di questa esperienza il dolore è stato scolpito è stato dipinto è stato anche in un certo modo celebrato dall'arte stesso a volte l'arte ha subito un po' il dolore come qualcosa di che non nasconde altre volte invece ce l'ha giustamente inquadrato come qualcosa che appartiene all'essere umano dunque il nostro mio bellissimo viaggio nell'arte non per tagliare il nostro traguardo ma non perché le opere che ho selezionato siano anche appartamenti esaustive vuole soltanto concentrare l'attenzione su questa verità che appartiene a noi a tutti ecco la questione del dolore della malattia che accettata va vissuta fa parte del nostro sistema delle nostre dire il primo quadro ce lo dice chiaro la prima immagine che ho scelto è un cavo lavoro assoluto non tanto della costruzione perché comunque è un'immagine abbastanza classica abbastanza intuibile facilmente riconoscibile nel suo messaggio una persona malata sofferente una donna probabilmente con un rimedio con una parte e uno sorda l'altro con l'imbraccio quindi la lettura è molto semplice però quello che mi prende farvi notare è l'artista perché è difficile capire chi è perché noi abbiamo un'idea di un'artista diversa l'artista è Pablo Picasso prima maniera noi siamo bisogna vedere Picasso con le sue figure divise squarciate l'ora più famosa è la bambina o la bambola dove si capisce che la bambina è la bambola perché c'ha un occhio il testo il ginocchio quindi è una figura abbastanza scomposta ma quello è proprio che Picasso intuisce che la persona umana da lì a vent'anni tra guerra e dopo guerra sarebbe stata divisa cantumata squarciata tagliata a pezzi e quindi è stato profeta del suo tempo invece qui siamo ancora in un momento in cui Picasso utilizza un linguaggio artistico molto molto classico l'opera si invita la scienza e la carità è un'opera di 1897 e si può ammirare la placiatura del museo di Picasso interessante dicevamo prima lo spazio molto ristretto limitato da un angolo della stanza e soprattutto lo spazio completamente sul quale piace appunto la barra che si intuisce di una gioventù ormai quasi cancellata dalla stessa malattia la luce entra da sinistra il numero in mente povero sobrio ma limitoso nel quale si va a confinare lentamente la vita è molto bello sottolineare la figura dell'attrico il medico è autorevole accediato con una mano sempre il corso e con l'altro pone la fiducia nello strumento di una figura il medico un tempo entrava nelle case io ero in un piccolo paese della Calabria questa cosa la ricordo il medico era conosciuto per nome forse due ce n'erano per paese e conosceva anche i pazienti per nome per cognome conosceva la famiglia entrava nelle case era quasi con la famiglia ed era anche in certi versi temuto di medico e qualcosa era accettato la tua parla perché non erano proprio sai come le daniamo comunque la figura del medico qui è assolutamente scientifica osserva lo strumento più che dare conforto al paziente al conforto ci pensa la figura della scuola che porge questa medicina quasi inutile perché il paziente è quasi diversa quasi per raggiungere miglior vita c'è un elemento che vi voglio far che vi voglio farvi notare che stona un po' con tutto il contesto c'è una casa povera una finestra chiusa quasi la luce tra poco sparirà perché l'ombra scenderà la morte è imminente però c'è un elemento che stona un po' con l'arredo con il contesto lo notano il quadro di solito nelle case umili sul letto cosa ci può dare un crocifisso madonnino manca e qui è la generità dell'artista Picasso vede oltre toglie il crocifisso come immagine classica in un caso come spirale di fede come appoggio anche come ultima speranza il cristiano è uno specchio in realtà uno specchio molto ricco per essere una casa di un po' giudizia della torrice trama il messaggio è che probabilmente da lì in avanti anche la malattia verrà svuotata il suo senso religioso il suo bisogno di essere offerta a Dio non chiedere a Dio perché ma accettare offrire a Dio come atto di fede la donna di sostenere San Picasso toglie questo perché capisce che saremmo arrivati a un punto in cui si darà chiesto a Dio perché il dolore perché la malattia invece che accettarla con pietas con il sentimento religioso è offrirla così come si è stato quindi c'è un tentativo di dirci che la secolarizzazione è al porte e che l'aerimento religioso verrà relegato immagino se è arrivata se vuoi aderire o no alla tua fede e quindi sembra che manchi la speranza cristiana non c'è segno religioso dicevamo c'è questo speck alle spalle che ritriamo a quello qualcosa di fugace degli usori umani terapeutiche del punto di rinvento come il nostro Signore Gesù Cristo in croce l'artista nel secoli ha più volte preso questo aiuto in questo caso Picasso a pratiche terapeutiche era molto affascinato dal mondo di medicina ma un'altra artista che ha adesso una seconda immagine devo scorbiciare perché io quindi noterete questi passaggi un po' violenti ma è meritabile un'altra artista che ha trasformato la sua vita da persona malata l'ha trasfigurata attraverso l'arte trasformandosi la sua malattia in un elemento ispiratore in una sorta di muse ispiratrice della sua virtù la è Frida Kahlo conoscente avete come si è dovuto parlare di un artista sì sicuramente i ragazzi in fondo non lo so sì Frida Kahlo ultimamente è tornata un po' alla ribadde c'è stata una bella mostra una bella di fare un maschio di inquinare questa mostra girata in Italia eccolo Frida Kahlo ha una scuola molto singolare non potevano parlare di lei è stato un artista che ha vissuto la corruzione della malattia della sofferenza dell'ospedalizzazione sin da 18 la prima era 18 anni perché mentre si recava al liceo all'università un terribile incidente le ha completamente fermato la colonna rossale causato gli disarmi irreparabili e poi da lì sono una serie di vicissitudini che hanno portato a rimanere al letto quasi per tutta la sua esistenza Frida inserisce spesso nelle sue predate questo suo essere malata in questo quadro per esempio si chiama le due Frida abbiamo in mano a una delle due immagini uno strumento tipico dei letti uniche bisturi quindi inserisce questo bisturi nella sua pittura e con questa vena recisa e notando anche che c'è una perfetta conoscenza dell'automia del cuore dell'organo cardiaco quindi l'opera in realtà è un'opera dove lei ha confronto la vita malata fisicamente e la vita malata per amore ha visto anche la sofferenza diciamo del dolore provocato con questo amore ma corrisposto o risposto al frattico di Olivera famoso oralista vissicano però era interessante farvi notare come nella sua arte si inseriscono come in genere una novità questa siamo a le nuove scelte per inserirsi strumenti medici fino ad arrivare ad un artista contemporaneo che vedremo più avanti che gli strumenti medici ne fa proprio le sue opere rappresentative quindi diciamo inserisce visto strumenti chirurgici ma anche ambienti ospedalieri sali operatori se andate indagare su google un po' le opere primarie principali di questa carta vedete che sono ambientate gli ambienti ospedalieri che erano quelli che le conosceva e le ha vissuto in una fase di questa carta è un'area di 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 unarea di unarea assolutamente rappresentativa di quello che sto dicendo andando all'immagine successiva vi lascio super la vita dell'artista perché ve l'ho inventato così brevemente però mi piacerebbe precisare che le conseguenze senza un incidente, sono stati gravissimi, ma non si è persa d'anno. Notate questa foto, lei è nel suo letto, pettinata, vestita bene, che è proprio il capo di un tipico dei gabbiti messicani, truccata, bottiglione mediante, lui c'è questa sua accettazione della malattia che la spinge a viverla e a viverla con l'unità. Tant'è vero che il busto di gesto che è indossa è stato decorato da lei, è stato divinto. Io ho avuto la fortuna di vedere dove si sta risposta in questa mostra, il busto di gesto. E' importante da un lato, perché sono cose che magari possono spaventare, ma dall'altro è rinforante. Perché qui troviamo proprio l'unità nella vita del suo essere malata, ma anche del suo essere giovane ragazze ha bisogno di essere amata. Per dire un po' le cose come stanno, le conseguenze degli incidenti, delle gambe furono realissime. La colonna vertebrale si spezzò in tre punti, si trattumò il collo del femore dei costri, la gamba sinistra ne portò 11 fratture, il piede destro rimase sblocato e schiacciato, la spalla sinistra è sottostata e il suo tecnico spezzato in tre punti. Una grande sofferenza che lei ha portato in tutta la vita era quello di sentirsi un mostro, perché dopo l'incidente, una malformazione alle ossa del bacino e anche al nutro, hanno fatto in modo che ogni tentativo di portare al mondo un figlio finiva in un aborto, perché lei stessa dice, le sue via di origine non li è riuscito, perché io non sono esperto, però arrivando a un certo tempo la mia ragazza veniva soffocata dal suo stesso nucleo che aveva generato. quindi, insomma, una grande sofferenza, eppure se guardate la foto sarebbe da cadere una depressione cronica con tutti questi infortuni, questi incidenti, eppure Gida, se è andata a indagare la sua vita, è stata molto attiva, ha già avuto un movimento domesticale per la liberazione dalle dittature, spesso, diciamo, sfidava gli uomini, seppure vestito da l'uomo, quindi una forza interiore, nonostante la sua conoscenza di malattia, era ben impressionante. Nessuna come lei è riuscita a rappresentare nel 200, non solo il livello di cure che ho finito agli ospitali, in sudamerica e anche in distri uniti, ma soprattutto lo stato d'animo dell'arcalato, che se da un lato profilava nella medicina e nelle strutture medico, dall'altro si sentiva cavia, a parte dell'esperimento. Prima il direttore ha detto no, il medico non cura, un secondo punto, per citare le parole testuali, il malattia non è un oggetto da aggiustare, e confida questa cosa la vissuta, spesso si sentiva un oggetto da aggiustare, perché mancava quella parte, quello slaggio da parte del medico, un malato che la faceva sentire una persona malata, non semplicemente un malato. C'è un'altra immagine importante, dove quello che sto dicendo viene raffigurato. Si sentiva un oggetto vivente, priva di volontà, sotto l'attenzione dello studio dei suoi medici. In questa immagine drammatica c'è un piatto punto, lo sguardo ci visse e ci interroga che è pieno di lacrime, e appare una donna immobile, seppia su questo paesaggio di sfondo, desertico, dove un cielo plumido, quasi da brutto paesaggio, fatto a proprio sfondo. Il corpo della giovane donna è lesionato squarciato, si intuisce, il corpo è proprio come un terremoto, squarciato. E la colonna retentata appare per ultimata. Lei si ispira alla corrente artistica del surrealismo, del liberalismo, e quindi la colonna retentata viene interpretata come una donna di un tempio. In realtà, se ne dammo ad agare, il corpo è proprio il tempio. In questo caso il tempio è stato, appunto, rovinato, saltimato dalla malattia. Il corpo della giovane donna qui, che poi è un autoritratto, è squarciato, e possiamo vedere che questa colonna è monica rotta nei più punti. La frammentaria e importante struttura è una traspina dorsale, ovviamente, integratista musicale del 71, come io ho detto prima di più. Proprio a caso di questo periodo d'avvenimento, lei ebbe 32 perazioni chirurgiche, e Frida trovò nell'arte lo sfogo alla sopportazione di questa tremenda, che era completamente testita. Forse c'è un'altra immagine un po' più completa di questa... I chiodi che vedete corticati da vendere sono un modo proprio per dire quanta sofferenza ne provocava questa sua condizione. Il ritratto di Frida qui mostra la lezione dell'architrice, appunto, alla corrente surrealista, e ricoprono il corpo, quindi, questi numerosi chiodi, che sono con la visione del cuore della solitudine partito dall'artista, e sembra quasi riprendere quello che è il schiare del martire, del martire alla colonna, giustigliato. Io vedo queste immagini con questi chiodi mi viene in mente, il martire di San Sebastiano. Quindi c'è un altro richiamo, è inevitabile, anche se Frida non ha male, diciamo, giocardamente, spesso la sua appartenenza a una fe, a una fe, tantomeno quella cristiana, in un certo modo la sofferenza ha comune a voi o a voi, al Cristo, alla sofferenza, cioè Gesù Cristo, Cristo, è l'archetico, in tutti i colori che sono stati malatticoli, indipendentemente dall'attrazione di fede. E qui lo vediamo, anche in un suo piatto, che potete chiamare un'altra posizione della croce, in cui il corpo è molto pieno rapporto. Quindi, i riferimenti al mitologo che cristiano ha voluto in un ruolo di sofferenza. Ma in questo dipinto la cosa che le preme, fa anche notare, soprattutto ai ragazzi, è che il dolore qui non è esibito, è un dolore muto, non c'è una tragedia, non si sa strafare di capelli, è un dolore muto, serrato nel tetto, ma ugualmente il messaggio è un dolore forte, e l'accidante. Prima di morire, il raccallo subisce l'interiore finita nella mutazione della gamba destra, e poi morì a 47 anni nel 1954, e le sue ultime parole sono state queste. spero che la fine sia pregiosa, e spero di non tornare mai più. La rotta tra la voglia di vivere e la voglia di non vivere, che è la rotta perenne di qualsiasi persona che vive una brucia di malattia grave, come in questo caso. allora, io ovviamente ho tagliato moltissimo, non credo di essere stato esattivo, ma ho annacciato degli input, spero di aver lasciato la possibilità di approfondire quest'artista, c'è tanta letteratura, c'è tante immagini che si possono leggere online, spero che vi abbia dato la spinta mutazionale a fare da voi una ricerca propria proposta. Quello che mi prende passare a un altro mondo dell'arte, che è quello dell'arte contemporanea del mio proprio mondo. Arte contemporanea significa artisti viventi, che agiscono nel nostro tempo, spesso sconosciuti, ma veri e propri superstari dell'arte. Se possiamo andare avanti con le immagini, vorrei farvi vedere un video, prima voglio questa foto, l'artista che ho selezionato per questa relazione è Darnell Hearst, non so quanti di voi inglesi, forse l'opera più conosciuta dell'artista, il cosquale Informaldeide, è un artista contemporanea che indaga la condizione dell'uomo di fragilità. Per lui entra dentro la paura dell'essere umano di morire, per evitare il concetto di morte, di fragilità. E lo fa attraverso opere molto provocatorie, ovviamente, giustamente perché nessuno parlerebbe di lui, l'arte contemporanea è anche provocazione. Ma non è una provocazione fino a se stessa, una provocazione che poi conduce a una ricerca di significato, a una ricerca di senso. Prima di parlarvi delle opere soluzionate, vorrei farvi vedere un video che presenta in 10 punti D'Amenes, D'Amenes. Faccio parlare del video perché se notte dobbiamo fare un anno intero di storia dell'artista, quindi di contemporaneo D'Amenes, perché davvero la produzione di questa artista è grandissima. C'è un link. D'Amenes. D'Amenes, nato a Bristol nel 1965, tra i dicembi artisti britannici contemporanei. È esponente del cifro del Guillaume British Artists, gruppo dei Visual Artists, affermatissi negli anni 90 per i contenuti culturalsi confugenti nelle loro esibizioni. La ricerca artistica di Chris è incentrata sul tema della morte nelle sue opere di vita con un spettacolo che spaventa, indigna, fa scalpore e invita a ripetere sulla caducità del corpo. Una delle sue opere più notte, Cordelot, Hot Corte, è anche schiumando i coperti di erano. Le opere di Daniel Chris hanno spesso il progetto di un animo al sanato, in alcuni casi sezionante, conservato in Formaldeide. Tra queste, la sua opera più nota è il Physical Impossibility, opera In the Mind of Someone Clinic, che, venduta nel 2004, durante i suoi tragetti scrittenti più cari del mondo, l'opera consiste in uno squadro di oltre 4 metri, posto in Formaldeide dentro una vetrina. Pare che Chris abbia acquistato l'animano da un scappolo scaldano, facendoselo ricaricare direttamente a casa. Le opere di Chris sono spesso contestate dai movimenti animatisti, tanto che volte le sue inscrizioni sono accompagnate da manifestazioni di protesta, anche dall'artista di usare le animali come oggetti di spettacolo, in una visione antropocentrica della vita. E di nuovo, il tema di perdono l'opera In and Out of Love, per creare la quale l'artista sacrificato non veniva parfalle. Altro tema ricorrente nelle opere di Chris sono i medicinali, esposti in struttura e rigorosamente ordinati. Tra le opere dell'artista sono presenti numerosi dipinti, conosciuti con il nome di Spot Tainting. Per via di una rafforare tecnica utilizzata dall'artista, che gli permette di realizzare segni di punti colorati, dipinti con vernici industriali sul fondo bianco, blotti e più distanti l'uno dall'altro. Le sue mostre sono considerate degli eventi, sia per l'ecolo della stanza, che per la presenza di celebrità. Queste, in un certo senso, adatte all'artista, sono sfruttate nell'ambito della moda per la cortina. Alcune opere non sono in vista, ma l'acquirente può portare a casa alcuni esemplari ispirati all'artista originale. Nell'ascesa dell'artista, il marketing e la comunicazione hanno svolto un buono commerciale, non è caso per il primo di scommettere sull'artista con pubblicità del britannico Charles Sassi. Oggi le opere di Trest devono valutate fino a 70 milioni di proghiere. Da Menterest ha diretto il video per il singolo del country house e dal quarto con miliardi di anni che ha fatto delle artiche usate nel tour de France e le note dal cittista americano Thomas Armstrong. L'opera è stata appartuta in last per 500 mila dollari e ad oggi è disponuta la bici più costosa al mondo e ricavata da un'associazione Life Strong che finanzia la lotta al campo. Una delle opere di Trest si tratta di L'Ost e L'Ost ospitata dalla fondazione Tarda di Milano. Allora, era necessaria di farle messa un'artista discutibile, un provocatore non ci interessa la figura di Menter quello che mi interessa di fare è che gli ha indagato il rapporto che oggi noi abbiamo con i farmaci o la medicina e ha creato, all'interno del tempo inizio nel 2006 una vera e propria farmacia riproducendo circa 3.500 pasticche 3.500 farmaci di gesto di broso. Questo suo intervento e questo termine nasce da un'esperienza che è solo con la madre e le farmaci aveva molta fiducia in questi farmaci e voleva molta fiducia è una cosa che noi oggi sperimentiamo basta guardare le risposte televisive che prendono i farmaci ah, giù non c'è l'aria che c'è il farmaco o comunque non c'è l'aria, anche se non c'è niente quindi in questo senso è stato disferrato quindi vede nella madre questa chiamata fiducia nel farmaco e dice perché non riesco con latte perché la gente non ha la stessa fiducia nell'ascio e nella violenza che hanno i farmaci che hanno i dati dal progetto cultivo allora per provocare riscaldare questa farmacia con queste 3.000 pasta pasticche ci sono, c'è una foto che la faccio vedere in un quarto della venduta è tutta 3.000 euro in una ma indipendentemente dalla gestione economica è un interessante messaggio lui ha avuto una visione, no? ci sono le pantele eccole, eccole lui ci arriviamo a un punto se incontriamo così che per nascondere il dolore arriveremo a nutrirci sia il dolore fisico che il spirituale c'è un altro artista che ha sperimentato l'uso di antidepressivi per 4 giorni e poi ci ha ricostruito la sua camera da letto con questi 4 giorni terribile però il messaggio è che se noi continuiamo a nutrirci di questi fatti è il nostro unico pazzo è ovvio un messaggio estremo però è abbastanza interessante questo consumo continuo di questa richiesta alla medicina da parte del paziente di fargli tutto per superare il genere del dolore e da adesso poter rinunciare attraverso queste istantazioni quindi in un certo qual modo qui l'artista diventa l'altrego del medico poi queste pastiglie sono state messe in ordine non casuale sono pastiglie curative per la testa poi per gli organi per il tronco per i gambe quindi la sostituzione del corpo umano in ordine come se avessi andato come un corpo umano attraverso questi fatti e lui invita a fare un esercizio semplice attraverso l'osservazione del movimento delle medicine che abbiamo a casa possiamo addirittura capire chi siamo e chi lo stiamo andando fa un'immagine filosofica ci invita a tornare a casa a prendere il nostro armadiello delle medicine e cercando di farci la domanda di chi siamo e da accedere la risposta fate un esercizio interessante al piede del vostro obiettivo delle medicine vedete se quei farci che avete che possedete dietro la sfondano una possibile risposta a una vostra domanda sull'esistere leggo un passaggio di Ernst per poi passare per mi avviare le conclusioni perché è difficile sintetizzare e racchiudere tantissimo materiale in questo tempo lui dice ha scelto la forma e le misure delle medicine perché sono di per sé già delle piccole ombre tappe sono minimali in loro forme sono lucide sono colorate sono decorate sono molto belle già di per sé metterebbero alcune pastiglie perché sono anche invitanti di mettere in un museo senza che che l'artista ci abbia pensato prima però c'è il rischio appunto che sia soltanto un'illusione quella di poter curarsi attraverso semplicemente la medicina nazionale o la farmicina c'è bisogno anche di appropriarsi di quella dimensione spirituale perché altrimenti si diventa semplicemente vittima di un peccato di un consumo che appunto non è bruttato nessuno nella sua ricerca quindi si innesta una fascinante dialettica tra medicina e creatività mettendo in relazione l'approccio e il linguaggio scientifico con quelli che caratterizzano l'arte è difficile perché dettare un labo medico è innanzitutto necessario studiare analizzare scegliere e prendere decisioni come ha fatto lui nelle esperienze intramagiche con la madre nella definizione di diagnosi dice si legge la diagnosi e l'interpretazione del quadro di lingo e l'avventura in un capo come è il mio con questo letto la definizione di diagnosi è l'interpretazione del quadro clinico la semiotica è la scienza che studia la semiotica è la scienza che studia i sintomi e i semi clinici avere l'occhio clinico vuol dire avere la puntezza del giudizio adesso deve spiegarci la tumula di diagnosi data e pesata e pure questo è un problema nazionale tanto il posto artistico il medico può commettere dico d'arte e guarda al paziente come fosse un'opera d'arte questo esercizio questa proposta è diventata una ricerca all'università della sabenza di roma che è chiamata la visual thinking strategy ve la spiego ci serve un altro video ma non voglio di lungarmi è una la dottoressa licenza per la bella è l'autorice di questo studio cioè portare gli studenti di medicina in un museo pone di fronte delle autorità e fare in modo che svilimpino la capacità di osservare i dettagli particolari i simboli nascosti di discutere e di decidere insieme di cosa si tratta esercitare secondo me l'esercizio dell'equip medica l'arte di avere uno sguardo critico e clinico sul paziente in un equip in un ambiente musiale in un museo è un esperimento molto molto intersale è una nuova frontiera della medicina che utilizza l'arte come strumento appunto per sviluppare la facilità di arrivare a quello in un ospedale di fronte un paziente e guardare al paziente con una nuova l'arte da studiare da legare e da sigla mi abbiamo preso delle conclusioni vi assicuro che ho tagliato tantissimo note di anima tutta la relazione è disponibile con il suo mio sito basta andare su google e scrivere per ragione arte e in pdf è scaricabile e chi fosse interessato a leggere le testo di arte però la medicina quindi è un'arte lo sappiamo e forse sarete subito sono queste con innocenza e purezza io studerò la mia vita e la mia arte sono parole di ipocrate quindi c'è bisogno di andare a leggere di dire cosa già detto si metto infatti non chiama la medicina scienza ma chiama arte e questo è interessante e quindi merito artista io spero che nella vostra vita e spero che nella mia di cercare un medico che io possa tenere un artista se anche voi nel vostro medico ritrovate i tratti per i miei artisti siete fortunati vi ringrazio per l'attenzione e per la tutta 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 abbiamo finito abbiamo finito anche rapidamente ma le cose che si fanno rapidamente sono conclusione ma non c'è forse l'aiuto dei medicinali che uno di noi ha non è il segno di chi siamo o di che cosa siamo ma è sicuro a vostro favore io credo che forse il senso di questa giornata sia questo la vita è bella non è la bella vita la vita è bella che è altra cosa e va di sud fino in fondo accettando tutti i risvolti di cui buono e per quello soprattutto lavorando perché in questa nostra stagione è perplessa si opera in quello che Gramsci un tempo definiva il mutamento nel senso comune in qualche modo ci sono riusciti a noi tocca di fare un'operazione identica e intensa cioè ricostruire un senso comune che abbia al suo centro esattamente la persona e i suoi valori la relazione tra le persone di lavoro per una società che sappia riconoscere il bene che cerchi il bene perché quando abbiamo la consapevolezza della nozione del bene probabilmente riusciamo anche a fare armi contro chi la nostra dittatura è in un giro poi poi c'è il dolore il dolore è un mistero che segna la nostra esistenza che c'è da noi è utile di cercarci di portare le ragioni avremmo alle volte delle risposte di maniera alle volte degli imparazzi il dolore è connaturato alla nostra umanità è parte della nostra umanità lo sapremo accettare se non viviamo secondo una logica di quella predominante cioè l'uomo vale se è bello se è giovane se c'ha il religio o un intervistico e poi gli altri temi che magari sono diventati quindi sono scatti vanno nascosti c'è una paura in un giro per non rassomigliare ai modelli che ci propone la possibilità che ci propone questo tipo di società per cui finiamo per diventare e allora la vita è bella quando ci si fa carico di noi stessi e di noi quindi questo è un'altra voglio solo dare una comunicazione entrando avete visto una panchina rossa c'è qui a lato la sala dell'accoglienza e c'è anche delle panchie delle panche nelle nostre iole che sono un'area risorsa tutti e tre questi momenti oggi inaugurati chiederei alla benevolenza di consigliere del corpo e di consigliere Talucci se hanno la possibilità di benedetto perché fanno parte di un percorso che abbiamo avviato non da soli ma con le scuole per tante persone con la comunità di Leoniero sulla umanizzazione delle future hanno un loro valore simbolico piccola cosa la sala dell'accoglienza non abbiamo speso una lira per queste opere la sala dell'accoglienza è rivolta ai familiari dei nostri amati perché abbiamo capito che loro spesso soffrono ancora di più di amati loro sono depositari molte volte di notizie che vengono nascoste anche brutte alle persone amate e loro abbiamo voluto rivolgersi creando una zona di di ospedalizzata dove ci sono i segni della scuola dove hanno veramente avviedato con la loro atto questi ragazzi grazie per di grazia a tutti e a tutti benedici dove c'è la possibilità di farsi una doccia di consumare un po' di tempo diciamo forse un po' dimenticando la maledza di questa presenza e allo stesso modo fuori con una dolletta che è stata fatta tra cittadini e operatori del PRO sono state realizzate delle panche dove nelle belle giornate i familiari gli ammalati potranno anche consumare poca roba e la panchina rossa vuole significare oltre che la visione al progetto contro la violenza della donna abbiamo visto qui dentro lo rivevamo ancora oggi abbiamo visto che forse la malattia che è brutta per tutti quando colpisce la donna è ancora più brutta perché la donna è quella che non chiede la famiglia abbiamo visto che la malattia nella donna spesso crea un disagio ancora più questo è il nostro piccolo contributo a queste sofferenze e chiederemmo la volontà del Consiglio del Corso di un signor Stato che oggi ha la possibilità per loro di un grande servizio avvenire sarà una cerimonia di pochi minuti però sarebbe molto importante la vostra pagina di attività grazie se non può essere presente alla manifestazione di questo pomeriggio l'amministrazione comunale è impegnata in un consiglio comunale per esempio l'amministrazione comunale è la persona che il vice sindaco vorrebbe dare ci gradevole, modevole e autorevole di questione che ogni anno propone alla città. Vieta di patrocinare queste iniziative, il benvenuto veramente di cuore alla sua eccellenza Rettore della Proficcia Università di Latteranese della Titano per queste pillole di grande ed autorevole esergenza, la scorsa volta San Francesco, oggi medicina, arte, cultura e naturalmente la summa bellissima, la carità, la carità che deve accomunare tutti quanti noi nel trocontere nel quotidiano la disponibilità all'altro, il tenere la mano, offrire una carenza e poi il vedere nell'ammalato e quindi grazie anche all'artista, vedere nell'ammalato l'arte, quindi il medico che si approccia, ecco, come una tela, la persona umana verita veramente un capolavoro, il capolavoro di Dio. Grazie al direttore generale e al direttore moderatore a tutti i punti presenti. Grazie di tutto. Grazie a tutti. La mia è una titola che costa per mila euro, non la devo dare. è una sintesi di tutto quello che è stato detto, la società non è stata al coro, dal direttore del generale, del portugno, dall'artista Massimiliano Coragina e anche dal moderatore per questo posto, ed è veramente una titola che non ne appartiene mai, perché si è credito che se pensiamo di qualcosa che si chiama l'antico restamento, c'è la pillola di questa, che la significa. Meglio non c'è un consenso di un puntare di tre. Questa è la pillola che credo valga l'interno. E anche perché è una titola questa che alla fine diventa la grazia dei voci, soprattutto in questa giornata particolare per me, perché è tutto coinciso, veramente è tutto coinciso. L'amministrazione deve rimanere concentrata, come è rimasto concentrato per il generale stamattina che ha parlato con molta cantività, nonostante che abbiamo una festa piena, piena, piena di pensieri, perché io lo devo dire, se l'amministrazione non è presente, e c'è solo Maria Meligrazio, è perché è stata veramente occupata a fare un'opera di salvezza. Devo dire, noi c'erano pieni a questo nostro comio, come diceva Monsignor Percopolo, è stato voluto per l'ultima della chiesa. Per cui, noi oggi invece, alle 18.30, è vero che è, diciamo, l'estate dei santi medici che tornano dal periodo di restato, però, come si può dire, è una preghiera di fede, c'è sempre, preghiamo per i nostri governanti, no? E noi crediamo, no, sono i santi medici, invocando lo Spirito Santo, affinché davvero tutto venga salvato, e tutto di niente, e buon senso. Grazie. Grazie.